il rito simbolico dei nastri o hand fasting è un antico rito di origine celtica nel rito le mani degli sposi vengono legate insieme a rappresentare le loro vite che si intrecciano e l'unione delle due anime per lo svolgimento del rito si utilizzeranno nastri o corde colorati che verranno delicatamente avvolti intorno ai polsi degli sposi i colori dei nastri scelti simboleggiano le qualità che si andranno ad augurare all'unione matrimoniale tra i colori più utilizzati abbiamo il rosso che simboleggia la passione il giallo che simboleggia la gioia il blu la sincerità il verde l'abbondanza e la fertilità il bianco la purezza l'arancio la la vitalità il rosa la tenerezza e il viola la fedeltà il rito prevede che alla cerimonia partecipino anche altre persone saranno infatti i familiari i testimoni o alcuni degli amici ad avvolgere i nastri intorno ai polsi degli sposi in segno di augurio alla nuova famiglia